traducibile letteralmente come scuola del lavello si tratta di un gruppo di pittori socio realisti britannici che si specializzò in tristi soggetti relativi alla classe operaia soprattutto scene di interni e nature morte di disordine domestico e avanzi il termine fu ideato dal critico david silvester in un articolo del numero di dicembre del 1954 del giornale encounter gli artisti principali ai quali era indirizzata la definizione erano john brady derrick graves edward middledick e jack smith appoggiati dalla beuse art gallery di londra e dal critico politicamente di sinistra john berger il gruppo fu attivo negli anni 50 del ventesimo secolo nel 1956 questi artisti esposero insieme alla biennale di venezia questo movimento di artisti si è sviluppato in gran bretagna con la scelta di tematiche cube e sordide e il loro stile aggressivo e sgradevole espressero lo stesso tipo di insoddisfazione verso i valori sociali e morali della società britannica del dopoguerra che veniva espresso anche in letteratura da scrittori e drammaturgi e nel mondo della televisione questo atteggiamento comune non durò a lungo e nei tardi anni 50 questi pittori presero strade diverse se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando